Il tuo cliente non ti ha pagato una fattura, l'hai già provate tutte ma non c'è niente da fare, non vuole o non può pagarti. Se hai guardato il mio video precedente, e se non l'hai fatto ti consiglio di andare a vederlo, sai già che per il recupero stragiudiziale del credito occorre la collaborazione del tuo debitore. Quando però non collabora, devi procurarti un titolo esecutivo, ossia un documento che attesta il tuo credito e ti dà il diritto di avviare un'esecuzione forzata. Cambiali, assegni o atti ricevuti o autenticati da un notaio sono già di per sé titoli esecutivi e ti permettono quindi di passare alla fase successiva, quella della notificazione dell'atto di precetto. Se non hai niente del genere, ti tocca ottenere un decreto ingiuntivo, ossia letteralmente un provvedimento che ingiunga al tuo debitore di pagarti una determinata somma alla quale vengono ad aggiungersi le spese che il giudice liquida e gli interessi. Per poter ottenere un decreto ingiuntivo il tuo credito deve essere certo, liquido ed esigibile, ossia provato documentalmente, determinato nel suo ammontare e scaduto. Parlando di somme di denaro, il decreto ingiuntivo può essere ordinario, che dispone quindi il pagamento entro 40 giorni, oppure provvisoriamente esecutivo, che dispone il pagamento immediato. Per ottenere quest'ultimo decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, il mio suggerimento è di procurarti uno scritto del tuo debitore, va bene anche un'email, nel quale questo riconosca il tuo credito, ad esempio indicandoti una data futura per il pagamento, oppure chiedendoti di poter rateizzare e indicandoti le rate. Ricordati che è molto importante che questo riconoscimento sia specifico e non generico. Per specifico voglio dire che deve indicare proprio quel tuo credito, meglio se indica l'ammontare. Una volta ottenuto il decreto ingiuntivo, questo viene notificato dal tuo legale al tuo debitore, il quale ha 40 giorni di tempo per pagarti, oppure per fare opposizione, ossia per avviare un giudizio nel quale far valere le sue ragioni. In caso di mancata opposizione, il decreto ingiuntivo diventa definitivamente esecutivo e il tuo legale può partire con la seconda fase, che è quella dell'atto di precetto di cui parlavamo, in cui quantifica tutto il dovuto, incluse le spese legali e gli interessi a quella data, per poi procedere con il pignoramento, che avvia la fase esecutiva. Della fase esecutiva ti parlerò nel prossimo video. Intanto, se questo ti è piaciuto, iscriviti al canale YouTube e segui tutti gli aggiornamenti sul sito.